Ciao, ehi, ascoltate, voi... Ah! Avete visto uno stormo di cicogne? Oh! Che cosa è stato? Un passero appena tentato di acerrarmi! Fail! Era un troll! Sono una cicogna, chiaro! Ma non secondo Ornitopedia? L-O-L! Slike! Ehi! C'è qualcuno? Che succede? Devono essersi fritti il cervello. Like! Sto solo perdendo tempo! Io voglio vedere come funziona! No! Non siamo amici! Lo dico! Cosa potrebbe mai accadere, Oleg? Tu so quello che ti devi fare! Olga! Improvvisamente mi sento... connessa! O-M-G! Un guffo all'alto! Olga! Posso chiederti l'amicizia? Anch'io! Anch'io! Certo! Wow! Già sei richieste di amicizia! Non è divertente, Oleg?